rispondete alla domanda da quanto si gioca a calcio in italia dalla fondazione da quanti anni da quanti anni da quanti anni allora diciamo da 100 anni di più benissimo per mezzo secolo il milan non è esistito ma da 45 anni 45 anni uscire dai confini d'italia non sei esistito per 45 anni devi smetterla di vivere il passato devi smetterla ma non è vero ma non è vero sei superato sei una specie di mumia ma non è vero da piano gentile per l'altezza di un metro e 76 centimetri e il peso di 65 chilogrammi l'uomo più pettinato del mondo l'uomo del triplete il telecronista il giovane interista filippo ramontana da milanello per l'altezza di un metro e 72 centimetri peso ed età ahimè indefiniti il mito rosso nero e il baffo dalle sette champions league l'anziano e soprattutto milanista ma forse e soprattutto anziano tiziano a tiziano Calcio di rigore, calcio di rigore, atterrato da Materazzi, Ibrahimovic, calcio di rigore, netto, netto. Ragazzi qui le paure di Danilo Sarugia, di un Materazzi che è spesso fuori tempo e poi insomma con pochi minuti... La difesa, presa in velocità, la difesa niente, l'ha fatta lui, l'ha frizzata. Lì Materazzi veramente la falce... Guarda, guarda, tac, stava calciando. Ibrahimovic, Ibra, 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 ed è gol, 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 Ibrahimovic. Ibrahimovic è un gol regalato dal signor Materazzi. Questo è un gol che il signor Materazzi ha regalato al mezzo. Allora... Non vedi che non c'è partita? Ma lo vedi che non c'è partita? Dai, su! Non difendiamo, non difendiamo. Ma giocano molto... Non è questo. Cioè, la palla c'era sempre in Milano. No, io non sono ero. Ma dai! Sì, sì, e non era... Assoluto. Cioè, ragazzi... Sulla carta nessuno avrebbe predetto... Il campo c'era una squadra vera che gioca a calcio con l'altra che cerca di difendersi. No, no, noi non cerchiamo di difendersi. Perché proprio non stiamo giocando. Esatto. Mistero I, attenzione! 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 Rominio, gol! Fuori gioco! Fuori gioco! Fuori gioco! Fuori gioco! Ammetto che fuori gioco! Fuori gioco! Parte Schneider con il destro! Parte Schneider! Go! No! Fuori! L'ho vista dentro! È vero, sembrava dentro! Crudeli, Crudeli! Sedol! Aaaaah! 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 L'ho fil di palo! Sedol! Dai, 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 dai! 47! 2 minuti! 2 minuti, vai Tiziano! Dai, andiamo a pressarli lì! Dai, Tiziano! 49, passati! 7 secondi oltre i 4 minuti! È finita! È finita! È finita! È finita! È finita! È finita! Olè! 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 È arrivata! È arrivata! Finalmente! Porca misera! È arrivata! Tiziano! È convinti! Era ora! Era ora! Era ora! Con cuore ci vince! 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 Ci vince col cuore! Ci vince col cuore! Grazie Grazie ragazzi! Avete dato tutto! No, no, no. Purtroppo, purtroppo sono stato buon profeta, sono stato buonissimo profeta quando dici ma attenzione che Materazzi è impresentabile e il risultato lo fa. No, ma lasciami finire, ma no.